Si chiamava Zanna Samsonova e purtroppo da come si legge su un web è morta di fame. La sua fine è arrivata dopo essersi nutrita, o meglio dopo aver utilizzato una dieta basata soltanto sul tipo di frutta esotica, era questa la dieta che la donna andava a colpire. In Malesia, 39 anni, aveva in totale, giovanissima, una cittadina russa che promuoveva i cibi, i rudini, i social. Pensate che la donna sarebbe morta il 21 luglio di recente, dove le 23 è pochi giorni fa di tempo. Una dieta basata su frutti esotici, una donna semplice questa, ma forse non ha guardato bene i rischi della salute e quindi in resi è verificato il deguglio, ossia la fine ultima. Dal vostro narrato italiano, Dio dubitare è tutto, posso soltanto dire Zanna Samsonova, riposi in pace. Amen.